ciao daniele sono francesco sono il tuo video sai tutto no? sai che devi fare no? devi ridere e ti devi dirti? ah quello ci arrivi per forza ci vediamo pronto in aereo ti devi fare no? tommmmmmmmmmmmmmmmmmmmm state me la 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 3 3 4 4 5 6 6 6 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti